Nuovi casi di Covid-19 nel Cilento, ormai in aumento da giorni. Registrati nella serata di ieri a Montecorice e Caselle in Pittari, località in cui erano già stati riscontrati dei contagi. A Montecorice sono stati posti in isolamento domiciliare quattro soggetti non residenti nel comune, rientrati dalla Spagna, di cui uno positivo al Covid. Come comunicato dal sindaco Pierpaolo Piccirilli, i soggetti sono in buona salute ed hanno dichiarato di non aver avuto contatti con cittadini del paese cilentano. Attualmente sono tre i casi a Montecorice, due registrati pochi giorni fa e sempre casi di rientro, questa volta dalla Sardegna. A Caselle in Pittari salgono a 21 i contagi del focolaio partito da un'attività ristorativa del luogo. I due nuovi soggetti positivi sono legati ai precedenti contagi, infatti erano già stati posti in isolamento domiciliare. Nel resto del Cilento sono 10 i casi a Ceraso, 7 a Capaccio Pestum, 4 a Castellabate e Altavilla e Silentina, 2 a Vallo della Lucania, Ascea e Albanella, 1 a Morigerati, Trentinara e Monteforte.